Ansia, stress, depressione, isolamento. Gli ultimi due anni, di cui il primo trascorso per lo più tra le mura di casa, ci hanno costretto a fare i conti con la fragilità della nostra psiche. Tra paura del virus, incertezza e solitudine, i numeri parlano chiaro. La pandemia ha incrementato il consumo di droghe, soprattutto tra i giovani. Il lockdown non ha danneggiato il narcotraffico. Oggi acquistare stupefacenti online è semplicissimo ed anche comodo, perché così sono recapitati direttamente tra la posta. Secondo il rapporto ESPAD del CNR, nel 2019, ultimo dato disponibile, i ricoveri per cause correlate all'uso di droghe in Abruzzo sono stati 187 nella fascia di popolazione degli under 34. Si tratta di un'incidenza di 44,2 ogni 100.000 abitanti, di cui oltre il 73% di sesso maschile. Nello stesso anno un abruzzese su tre, tra i 15 e 19 anni, ha ammesso di aver provato, almeno una volta, una sostanza illegale. Al di là che si trattasse di oppiaci, allucinogeni, cocaina o cannabis. La giunta regionale ieri ha approvato, su proposta dell'assessore alla salute Nicoletta Verì, un nuovo protocollo per reprimere questi fenomeni. Non si tratta di un finanziamento volto a incrementare il supporto psicologico o a combattere le dipendenze, quanto piuttosto di un'intensificazione di scambio di informazioni, nei limiti della privacy, tra forze dell'ordine, sanità, scuola, famiglie e mondo dello sport. La notizia arriva nello stesso giorno in cui a Roma, tramite decreto interministeriale tra i dicasteri della salute, dell'agricoltura e della transizione ecologica, la cannabis, cosiddetta light, ovvero senza principio attivo, è stata dichiarata sostanzialmente illegale. Vi sono però sostanze che, benché assolutamente legali, sono ben lungi dall'essere non nocive o dal non creare dipendenza. Secondo l'Istituto Superiore di Sanità, in Italia nel 2019 sono finite al pronto soccorso, per aver bevuto troppo, 4.723 minorenni. L'anno successivo, poi, allo scoppiare della pandemia, il consumo di alcol è aumentato del 446%, del 209% nella fascia d'età tra i 18 e i 24 anni. Secondo il 33esimo rapporto Eurispes, inoltre, un italiano su 5 soffre di disturbi legati alla depressione. Ciò ha portato, come riferisce ICVIA, la multinazionale che analizza i numeri delle case farmaceutiche, ad un incremento del consumo di psicofarmaci. Nel periodo da gennaio a settembre del 2020, rispetto allo stesso periodo del 2019, il consumo di antidepressivi è cresciuto del 2,5%, mentre i farmaci per insonnia e ansia hanno registrato un boom del 24%. Uno mesi per i farmaci per i shock ... ... ... ... ... Grazie a tutti.